Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, oggi è lunedì 16 dicembre 2013, sono circa le ore 19 e vi devo dare un aggiornamento perché la giornata di oggi che vedete ancora in svolgimento davanti ai vostri occhi ha visto una serie di, come dire, novità dal punto di vista dei movimenti di mercato sfociati in questo deciso rialzo presente in Europa, in particolare su Eurostox e DAX, come avremo modo di vedere tra un attimo, anche il nostro FIB ha visto un buon recupero rispetto alle discese dei giorni scorsi, ma ci sono un pochino di, come dire, novità e notazioni da porre rispetto a quelle che sono state le tematiche che abbiamo analizzato insieme nella videoanalisi settimanale, appunto, pubblicata venerdì dopo la chiusura. Prima volevo ricordarvi un paio di cose perché si avvicina alla fine dell'anno e sicuramente il momento è importante per una serie di bilanci, ma anche e soprattutto per proiettarci nel nuovo anno e iniziarlo, come dire, con il piede giusto. Allora, la prima e cosa più importante è che continueranno i corsi, la didattica gratuita, Prof. Ste, tantissime iniziative come sempre e la prima sarà, appunto, in gennaio e in particolare lunedì 13 per un corso gratuito di una giornata che si terrà a Legnano. Potete iscrivervi, scrivendo un'email a FXCM, l'indirizzo è questo, info-fxcm.it oppure chiamando il numero 0331 88 4001 e in questo modo potrete partecipare a questa giornata didattica gratuita, adatta a tutti sicuramente e in particolare a chi mi conosce ancora relativamente poco, anche se il consiglio è quello di arrivare minimamente preparati. Il materiale per tutti è sicuramente notevole e disponibile sul sito, il sito fa un pochino da riferimento. Chi non mi conoscesse può partire da questa barra laterale, quindi a parte le avvertenze molto importanti, Prof. Ste per chi inizia, la preparazione di base, cosa serve per apprendere e introdursi al metodo Prof. Ste, che sicuramente è un metodo avanzato e aiuta più chi è orientato verso la professionalità del trading, che non il principiante che ancora deve un pochino, come dire, chiarirsi un pochino i fondamentali di questa materia, tantissimi videodidattici, delle vere e proprie lezioni e corsi online gratuiti, il libro che è sempre gratuito, i corsi come appunto quello di gennaio, che vi consiglio di frequentare. Consiglio però di frequentarlo anche a chi è a un livello un pochino più avanzato. Questo è soprattutto in preparazione del corso sul metodo Prof. Ste che si terrà poi sempre in gennaio, subito dopo, perché sarà lunedì 20 e martedì 21 gennaio 2014. Il corso è sicuramente un qualcosa di avanzato, direi quasi avanzatissimo, quindi serve per poter accedere una base professionale e una base di preparazione. Ovviamente non è necessario sapere tutto, però mi raccomando, se volete partecipare mi iscrivete e valutiamo insieme l'opportunità o meno di una vostra partecipazione al corso appunto nell'edizione di gennaio, oppure rimandare eventualmente a qualche edizione successiva, il corso si tiene all'incirca tre volte l'anno o due, edizioni che si ripetono e quindi permettono a chi non ha e non avesse ancora la preparazione sufficiente appunto di essere, come dire, più preparato per le edizioni successive. Se invece disponete della preparazione di base sicuramente questi mercati sono assolutamente impegnativi per chi li affronta quotidianamente in intraday, ma anche per chi fa un trading di più lungo periodo su base settimanale. Questa discesa che non è tanto riclassificabile come ritracciamento, lo vedremo tra un attimo, è stata molto marcata, il momentum che vorrei analizzare ancora oggi insieme a voi è stato ben anticipatore della discesa dei prezzi, ecco questa discesa ha sorpreso i più, i più dei meno preparati ovviamente, perché per quanto ci riguarda, sapete, pur non facendo previsioni, era un pochino nell'area da tempo, la necessità anche fisiologica di un ritracciamento che è arrivato e è stato e sta essendo, perché non è ancora esaurito del tutto, o meglio non è detto che sia ancora esaurito del tutto, molto molto marcato. Ma veniamo un pochino a quello che è accaduto oggi perché è estremamente interessante. Allora c'è stato un recupero, una barra rialzista ancora in corso, perché ripeto sono circa le 19, i mercati chiuderanno alle 22, come sapete, barra rialzista dettata e dominata da una positività che sostanzialmente, andiamo a vedere i grafici intraday, è iniziata in corrispondenza della sessione asiatica, in particolare, vedete, quando qui in Europa era ancora notte fonda, i mercati hanno iniziato con una negatività che è poi ripresa, che si è poi ripresa e ha portato ad un deciso, direi, recupero, che ha tenuto banco sostanzialmente per tutta la giornata europea, o meglio, e precisamente fino all'apertura degli Stati Uniti. Perché? Andiamo a vedere un pochino meglio, per chi di nuovo non mi conoscesse, questi sono i grafici dei future, americani, S&P 500, Nasdaq, sotto avete i grafici orari, sopra i grafici intraday, che sono poi i grafici ntick, sotto il time frame orario consiglio i grafici ntick. Sul sito avete poi tutta una parte didattica, anche in video, che vi spiega cosa sono e come usarli. Detto questo, dicevo, la positività è durata poi per tutta la mattinata europea e fino all'apertura di Wall Street, perché guardate, proprio dalle 15.30 in poi, ora italiana, è iniziato, questa era le 15.55, quindi a parte la prima mezz'ora dalle 16 circa, ecco, è iniziata un'incertezza che appunto dalle 16 circa, questa l'apertura, la discesa è iniziata dalle 16 circa, ecco, dicevo, un'incertezza rispetto alla positività che ha portato all'interno di questa giornata, appunto lunedì 16 dicembre, ad un piccolo, per ora ritracciamento rispetto appunto alla positività. Lo vedete, questo è accaduto anche in Europa, qui la prima discesa appunto a partire dalle ore 16, dopo che in apertura dei mercati americani c'era stata appunto di nuovo un pochino di incertezza. Incertezza in che senso? Nel senso che rispetto alla tanta positività che si era vista fino a quel momento, tutto ci si aspettava meno che, ed è questo il motivo di relativa cautela e sul quale volevo invitarvi appunto a riflettere, dicevo, tutto ci si aspettava meno che all'apertura degli Stati Uniti, che comunque navigano ancora, guardiamo l'S&P 500 in area 1.800, quindi in area di massimi storici, in area di massimi di tutti i tempi, ecco, dicevo, tutto ci si aspettava meno che un'incertezza, sia in apertura e poi, ancora e a maggior ragione, a partire dalle 16, una forma che abbiamo visto di ritracciamento. Le giornate realmente positive tendono a chiudersi come sul FIB con una chiusura in area massimi, molto vicina ai massimi, cosa che appunto non è avvenuta fino a questo momento in Europa, vedete che appunto la candela, barra giornaliera, ha questa parte finale che denota quel ritracciamento appunto che si è innescato a partire dalle 16 e appunto, ripeto, con l'apertura sostanzialmente dei mercati americani. Quindi e perché questo? Il primo elemento sul quale dobbiamo riflettere lo abbiamo fatto vedere anche nelle videoanalisi precedenti, tra l'altro vi ricordo che la videoanalisi di settimana scorsa è ancora valida, perché le tematiche restano quelle, quindi quella di oggi vuole essere semplicemente un aggiornamento, ma le tematiche della videoanalisi di venerdì sabato scorso sono ancora in gioco e quindi vi prego eventualmente di ripassarle, la trovate come sempre sul sito e o sulla pagina Facebook. Dicevo, a parte le tematiche in gioco, l'elemento che ha portato questa incertezza e stupisce da un lato il fatto che sia arrivato proprio quando ha aperto il mercato americano, che viaggia, lo ripeto, guardiamo l'S&P 500, ancora in area massimi storici, l'area dei 1.800 circa, al momento di parlare vedete a 1.764-1.25, con un Nasdaq anche lui sui livelli massimi in area 3.500, quindi sicuramente massimi dell'anno e quant'altro, perché la notizia di settimana scorsa è stata che sostanzialmente gli Stati Uniti si erano per la prima volta adeguati alla negatività europea, laddove fino a quel momento, vedete la differenza fra la discesa europea e quella statunitense che rimane ancora molto modesta per quanto riguarda gli Stati Uniti, ecco dicevo, fino a quel momento la discesa degli Stati Uniti era ancora relativamente bassa e lo è tuttora, però, e si è visto bene oggi, quelle componenti di incertezza hanno in qualche modo intaccato la positività statunitense, anche se ripeto le discese sono ancora relativamente basse e questo è sicuramente un elemento che deve portare alla cautela e deve portare a qualche riflessione rispetto a quello che sta succedendo. Perché? Perché sappiamo bene che gli elementi della crisi sono purtroppo prevalentemente europei. L'Europa ha iniziato a ritracciare molto prima degli Stati Uniti, ripeto, negli Stati Uniti quasi non si può ancora adesso parlare di ritracciamento. In Europa poi il nostro FIBA a sua volta ha sottoperformato per primo e quasi preannunciato la discesa delle ultime due settimane sostanzialmente e quindi chiaramente gli Stati Uniti erano quelli e sono stati per tantissimo tempo e sono ancora quelli che con la loro positività sostengono in qualche modo i mercati. Il fatto che proprio oggi, lunedì 16 dicembre, ha una smaccata positività europea sia corrisposta, diciamo così, una ancora lieve per l'amor di Dio perché la giornata ha il segno positivo, ma incertezza nei mercati statunitensi, in particolare appunto S&P e Nasdaq, ecco questo deve assolutamente evitare la cautela perché, lo ripeto ancora, una giornata realmente positiva è una giornata dove, positiva realmente nel senso senza incertezza alcuna, dove si chiude in zona massimi e oggi sembrava proprio che, se tu guardi il grafico intraday, fosse una di quelle giornate che si possono definire quasi trend day a un'unica direzione, con chiusura vicino ai massimi. Anche al momento di parlare vedete che la pausa pranzo americana, ricordiamo, finisce proprio alle 19, non c'è un'intenzione, come dire, realmente positiva. Anche se chiaramente poi il netto della giornata è positivo e i mercati viaggiano ancora con una positività nominale che, ripeto, è meno visibile guardando e analizzando i grafici intraday. Il motivo di questa, lasciando perdere le varie notizie, vi dico la verità, non le ho ancora guardate, ho semplicemente seguito quello che accadeva sui mercati, è proprio il momentum, cioè a dire, se voi guardate il momentum, la lettura del momentum è chiaramente uno dei temi più avanzati e più complessi, forse insieme al tape reading del metodo profste, ci vuole un pochino di tempo per assimilarlo, ma abbiate pazienza perché l'apprendimento di questo concetto, la lettura del momento è una delle cose più remunerative sulle quali possiate realmente investire la vostra conoscenza e il vostro sapere, quindi vale veramente la pena. Il momentum ci aveva ben annunciato che le discese sarebbero continuate perché il momentum precede i prezzi e al momento di parlare è ancora, anche se in rallentamento, verso il basso. Quindi vedete che l'ampiezza degli swing verso il basso, guardiamolo anche sul DAX, per ora prevale l'ampiezza degli swing verso l'alto, quindi la direzione del momentum è ancora, ripeto, verso il basso. Potrebbe vero esserci un'inversione del momentum, ma questa richiede un pochino di tempo e richiederebbe che gli swing in positivo, gli swing rialzisti, eccedessero in qualche modo sia i precedenti swing rialzisti sia quelli ribassisti. Cosa che, ripeto, anche oggi non è ancora avvenuta perché per quanto portentoso il recupero di oggi, lunedì 16, non è stato in grado di recuperare quello che nelle giornate precedenti era stato lo swing ribassista. Questo né sull'Eurostox, né sul DAX, né sul FIB che in qualche modo aveva segnalato il recupero di oggi perché con la divergenza di cui parlavamo ancora venerdì sabato nella videoanalisi settimanale, non aveva ancora confermato il fatto che invece DAX e Stoxx avessero fatto segnare nuovi migliori. Quindi stiamo attenti a una cosa nelle prossime sedute. Vediamo se come questo rialzo proseguirà e fino a dove e vediamo se a livello di lettura del momentum si potrà ipotizzare o meno un'inversione dello stesso verso l'alto che adesso è ancora direzionata in basso anche se in rallentamento. Gli elementi sono molto importanti, li seguiremo insieme come sempre, sia con aggiornamenti qualora ce ne fosse bisogno come oggi in video, sia con gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook. Quello che volevo far capire è proprio come l'incertezza che si è vista oggi, paradossalmente a partire dall'apertura americana è dovuta proprio al fatto che la forza, il momentum, la spinta è per ora ancora direzionata verso il basso. Altro elemento molto importante sarà vedere se il DAX riuscirà o meno, eventualmente laddove si riprende il movimento ribassista, a rompere al ribasso la congestione ABC che vedete ha sostanzialmente testato neanche con una grandissima precisione per poi ripartire verso l'alto e ripercorrere quello sì nella giornata di oggi, lunedì 16, tutta la congestione ABC verso l'alto è infatti arrivato proprio in zona massima. I limiti della congestione ABC sono questi massimi e questi minimi fatti segnare nel mese di novembre, li ricordo perché sul DAX sono meno visibili, sono il minimo del giorno 5 novembre e il massimo del 7 novembre. Quindi attenzione, teniamo ben presente questi confini perché il DAX è ancora all'interno della congestione ABC e o che la dovesse rompere verso l'alto o che la dovesse rompere verso il basso, i due livelli massimi e minimi rispettivamente del abbiamo detto 7 e 5 novembre scorsi sono sicuramente livelli importanti che vedete vengono sentiti dal DAX. Parallelamente attenzione al EUROSOS 50 perché i minimi della congestione sono qui, oggi li ha in qualche modo sfiorati, poco al di sotto del livello anche soglia psicologico ormai lo sappiamo dei 3.000, quindi attenzione perché se il DAX dovesse rompere al rialzo la congestione ABC è chiaro che dovremmo avere una conferma dell'EUROSOX perlomeno con un rientro nella congestione stessa. Al ribasso e dovesse riprendere il movimento, attenzione a questo livello dei minimo di oggi, venerdì e giovedì scorso che magicamente si è andato a portare sullo stesso livello dei 2.914 che per forza di cose sono un livello assolutamente importante. E poco sotto attenzione alla chiusura gap, il gap è quello del 10 ottobre scorso, si chiude quando e se verrà battuto il livello di chiusura del 9 di ottobre 2.901 laddove i minimi del giorno 10 sono stati segnati a 2.908 e i minimi di questi giorni a 2.914, quindi per pochi tic da 2.914, 2.908 a 2.901, quel gap che può fare da ottimo riferimento sull'EUROSOX è ancora aperto, è ancora da considerare aperto. Ovviamente anche il DAX dovesse rompere i minimi di questa congestione ha subito questo gap che è quello dello, scusatemi, non è lo stesso giorno del 24 di ottobre come riferimento e livello di chiusura abbiamo gli 8.920.5, chiusura del giorno 23. Quindi i riferimenti e i gap aperti sotto sono diversi e molteplici e ogni volta, lo sappiamo, ci danno dei precisi riferimenti per giudicare quello che sta accadendo. Quindi di nuovo concentrandoci sui mercati europei bisognerà vedere se e come il DAX vorrà uscire dalla congestione ABC, compresa fra massimi e minimi del 7 e 5 novembre scorso. Eventualmente vedere se l'EUROSOX vorrà rientrare nella congestione stessa, rompendo al rialzo questi minimi e rientrando nella stessa, oppure in caso di proseguimento dei ribassi, laddove il DAX rompesse i minimi della congestione ABC, c'è subito questo gap da riempire sullo stocks e questo gap da riempire sul DAX e il modo come se verranno colmati sicuramente ci darà ulteriori indicazioni. Ecco, sul mercato e per quanto riguarda il mercato americano, chiaramente è ancora presto per parlare di negatività, questo è assolutamente ovvio, sono meri ritracciamenti ma gli indici Nasdaq e S&P 500 viaggiano ancora in zona massima, quindi quello su cui ho voluto richiamare la vostra attenzione è principalmente il fatto quasi ironico che in una giornata come quella di oggi la poca incertezza rispetto alla positività è venuta proprio dagli Stati Uniti che per mesi hanno fatto altro che trainare verso l'alto tutti i mercati. Ecco, come vedete tutte le tematiche sono in parte complesse e richiedono sicuramente una preparazione e un'attenzione non comuni. Quello che vi chiedo è quindi di approfittare delle vacanze natalizie per eventualmente dedicarvi anche nel tempo libero ad approfondire un pochino di studio. Va benissimo riposarsi ed è doveroso, però potete approfittarne se avrete un pochino di tempo grazie alle vacanze per approfondire un pochino le tematiche teoriche e poi subito dopo e proprio per quello venite al corso gratuito che è il 14, scusatemi, lunedì 13 gennaio e vi farà in qualche modo iniziare l'anno col piede giusto e con una maggior cognizione e consapevolezza di quello che serve per interpretare appunto questo mercato, questi mercati che sono sicuramente in parte complessi, nulla di difficile realmente perché la metodologia consente di avere sempre in modo oggettivo il metro per giudicare quello che sta accadendo. Ecco dicevo però appunto che richiedono sicuramente una buona preparazione teorica e di base. Di nuovo grazie a tutti, quindi appuntamento sulla pagina facebook Profste per quanto riguarda gli aggiornamenti quotidiani in tempo reale, tra l'altro martedì, quindi domani, c'è anche l'appuntamento con diretta con le pillole di borsa, il doppio appuntamento video live, uno alle 10 di mattina, uno alle 18 e 30 che potrete se volete seguire appunto in diretta streaming. Se ci sarà bisogno farò anche degli aggiornamenti di questa video analisi settimanale e poi appunto per iscritto gli aggiornamenti giorno per giorno e come sempre sulla pagina facebook. Vi ringrazio perché in questi giorni tanti di voi mi stanno scrivendo e comunicandomi, come dire, un senso di gratitudine ma come sempre sono anch'io che devo ringraziare voi per il lavoro svolto e soprattutto per gli strumenti dei quali disponete grazie alla metodologia e che vi permettono appunto di navigare queste acque che non sono sempre così calme, tranquille e quant'altro. Di nuovo quindi grazie a tutti e a presto!